cari amici del canale youtube dentro la notizia benvenuti a questo breve speciale sulla crisi dell'eurozona e ricette per uscirne claudio borghi presidente della commissione bilancio della camera lascia intendere che i mini bot si faranno perché il mini bot non è una moneta parallela è come dice l'economista un metodo di pagamento come le carte di credito riguardo al miglioramento dei pagamenti della pubblica amministrazione borghi dice i mini bot servono a migliorare ancora la situazione chi deciderà di prenderli volontariamente farà una pratica in meno e si accelereranno i rimborsi a chi dice che i mini bot aumentano il debito l'economista risponde chi lo dice finge di non capire se i mini bot vengono assegnati a chi ha un credito dall'altra parte c'è la pubblica amministrazione che ha già un debito se poi non è ancora contabilizzato non è ancora nei parametri di maastricht non significa che sia nuovo l'unico modo per non far emergere quel debito sarebbe non pagarlo mai alla domanda se con i mini bot si intende a preparare il terreno all'uscita dell'euro borghi risponde avevano detto tutti che l'euro è irreversibile se a distruggerlo bastasse una piccola cosa come il mini bot alla domanda se l'euro è irreversibile borghi risponde no figurarsi c'era chi considerava irreversibile il sesterzio ma i mini bot sono solo un aiuto in caso di difficoltà nei pagamenti non sappiamo cosa può succedere supponga che ci sia un attacco hacker e si blocchi il sistema normale dei pagamenti le carte di credito le cose legate all'euro ci sarebbe un'alternativa pronta riguardo all'uscita dall'euro borghi dice sì non ho mai cambiato idea ma il governo si basa su un contratto in cui non c'è il ritorno a uno stato pre maastric come era nel programma della lega io da democratico mi attengo a quel contratto credo che tria e conte siano spaventati dall'ondata di disinformazione che c'è stata sono fiducioso che si convinceranno le leggi le fa il parlamento è giusto che un tecnico abbia le sue convinzioni ma la responsabilità politica è nostra decidiamo noi il nostro debito è sempre stato considerato una scoria uno schifo io invece sempre cercato di ricordare alla gente che il debito è anche un credito che a fronte del debito c'è il risparmio dei cittadini quindi vogliamo renderlo bello attraente il nostro debito può essere anche la nostra ricchezza e di cui si spiegherebbe perché l'intenzione di mettere l'urlo di tardelli sul minibot a detta di altri economisti i minibot potrebbero aiutare nel dare una certa sferzata all'economia italiana la cui debolezza è riconosciuta essere proprio nel consumo interno vediamo ora come siamo arrivati in questa situazione con un confronto del debito dei vari paesi europei dal 2007 al 2018 nel 2007 anno che precede la crisi economica possiamo notare che il debito pubblico dell'italia equivale a quello della germania ed è di circa 1600 miliardi e notate bene è superiore di circa 350 miliardi di euro di quello della francia mentre quello della spagna è di soli 385 miliardi ancora notiamo che quello del regno unito è di 877 miliardi poco più della metà del debito italiano ora veniamo agli ultimi dati del 2018 qui possiamo notare che il debito italiano è cresciuto di oltre 700 miliardi in percentuale è cresciuto non eccessivamente del 44,58 per cento sì quello della germania è cresciuto meno cioè solo 463 miliardi in questi 11 anni ma sorpresa la francia ha quasi raggiunto il nostro debito e di questo passo lo supererà molto velocemente perché in percentuale il suo debito è cresciuto dell'ottanta 4,75 per cento contro solo il 44,58 per cento dell'italia mentre il debito spagnolo è cresciuto di ben oltre il 204 per cento e quello britannico del 134 per cento questo vuol dire che discorso a parte per la germania i vari paesi dell'eurozona sia del sud che del nord europa hanno fatto fronte alla crisi aumentando le spese in favore dei cittadini cioè con politiche espansive cosa che invece l'italia non ha fatto perché ha continuato a risparmiare essendo l'unico paese in avanzo primario negli ultimi vent'anni e questo ha acuito la crisi finanziaria a danno della popolazione e di conseguenza del pil per quanto riguarda il rapporto deficit pil notiamo che la germania dopo la cura di austerità della troica ritenuta il più grande successo dell'elite ha portato il suo rapporto deficit pil al 181 per cento dal 103 per cento del 2008 se questo è il modello economico che l'italia deve seguire beh possiamo essere certi che siamo diretti verso il fallimento ben guidati dalle diaboliche elite cari amici iscrivetevi numerosi al canale youtube dentro la notizia e cercate di sostenerci in questo tentativo unico di fornire le notizie che altri non danno in maniera neutrale ovviamente ci sarà sempre qualcuno che sarà scontento e si lamenterà a volte giustamente perché siamo imperfetti quello che vi chiedo è di non farci mancare il vostro sostegno perché fare informazione a un costo e dietro le nostre spalle non c'è nessun partito né personaggi dell'elite a sostenerci ovviamente contiamo solo su di voi e sui pochissimi proventi ricavati dalla pubblicità se ci farete mancare il vostro sostegno e non sarete dalla nostra parte cioè dalla parte delle persone non ce la faremo ad andare avanti molto in mezzo a tante difficoltà e problemi siate con noi e vedrete che assieme faremo un ottimo lavoro un abbraccio dal vostro roby